Finalmente un forum internazionale del turismo, una due giorni che ci voleva. Sì, dobbiamo ringraziare il ministro Santanchè perché è riuscita a organizzare un evento trasversale, che è la cosa principale. Troppe volte ci parliamo addosso, diciamo, solo tra operatori del turismo, invece oggi abbiamo tanti ministri che si occupano di settori che non sono direttamente il settore del turismo, ma che hanno una grande influenza sul nostro settore. Quindi è un format questo che va molto bene. Ogni panel aveva un imprenditore, ha un imprenditore, questa è anche un'altra cosa molto importante, imprenditori e politica insieme, perché a volte molti panel sono fatti con format differenti e non ci si capisce poi. Ma poi credo che anche la formula sia giusta, non è una formula interventi dove la gente si parla addosso, ma è un talk show comunque con giornalisti di primissimo livello, come Nicola Porra ad esempio, che ha moderato il nostro panel e quindi c'è un confronto tra politica e impresa. E solo attraverso questo confronto si possono fare belle cose. Grazie, buon lavoro, a dopo. Grazie a lei, arrivederci. Grazie.